Cari concittadini, cari concittadini, il 7 marzo 2021 saremo chiamati a esprimerci sull'accordo di partenariato economico con l'Indonesia. Questo accordo fa parte dell'impegno profuso dal Consiglio federale per migliorare l'accesso ai mercati esteri e alle nostre imprese. Per la Svizzera, che ha un mercato interno limitato e molte imprese orientate all'esportazione, questo accesso è particolarmente importante. In questo modo riusciamo a creare e preservare benessere e posti di lavoro nel nostro paese. L'Indonesia, quarto paese più popolato del mondo, rappresenta un mercato rilevante e in forte crescita. L'accordo di partenariato economico elimina i dazi su tutte le principali esportazioni svizzere e offre alle nostre imprese una parità di trattamento e le stesse condizioni sul mercato indonesiano rispetto ai concorrenti di altri paesi. Il referendum è stato indetto soprattutto per due motivi. A causa delle preoccupazioni sull'impatto ambientale e sociale della produzione di olio di palma è perché si teme che l'accordo possa mettere in pericolo la produzione svizzera di olio di colza e di girasole. Il Consiglio federale ritiene tuttavia aver tenuto debitamente conto di queste preoccupazioni nel corso delle trattative. L'accordo non promuove solo il commercio, ma protegge anche l'ambiente e i diritti dei lavoratori. La Svizzera e l'Indonesia si impegnano tra l'altro a tutelare le foreste e a garantire una produzione sostenibile di olio di palma. Infatti soltanto l'olio di palma prodotto in maniera sostenibile potrà beneficiare delle agevolazioni doganali previste dall'accordo. Per i prodotti agricoli l'accordo non prevede il libero scambio, ma esenta dai dazi soltanto certi prodotti non sensibili per la Svizzera, cioè che non costituiscono una minaccia per la nostra agricoltura. Sull'olio di palma non abbiamo eliminato i dazi, ma le abbiamo soltanto ridotti moderatamente e solo per un quantitativo ben definito. In questo modo garantiamo che l'accordo non abbia un impatto negativo sulla produzione svizzera di olio di colza e di girasole. Sono convinto che quello siglato con l'Indonesia sia un accordo equilibrato, promuove gli scambi commerciali, tiene conto dello sviluppo sostenibile e difende gli interessi dei nostri agricoltori. Inoltre l'accordo è al tempo stesso un contributo a favore delle iniziative mondiali per una produzione di olio di palma più sostenibile. Per tutti questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di dire sì il prossimo 7 marzo all'accordo di partenariato economico con l'Indonesia.